Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951 e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno a tutti. Ovviamente quello che ci preoccupa e ci preoccupa più di tutto è la situazione sanitaria. Ora, in questi giorni, adesso faremo anche un po' un resoconto, ma in questi giorni tanta gente mi chiedeva di fare interventi diretti, spiegare. Non tocca a me. In questo momento noi dobbiamo essere tutti molto rispettosi delle regole e anche di un po' di riservatezza. Qui non c'è bisogno di mettersi sempre la medaglietta e di essere il primo che ha dato la notizia. E' capitata pure a gente che, indossando una divisa, dovrebbe essere un po' più attenta. In una situazione di crisi cerchiamo di difficoltà, cerchiamo di avere pochi riferimenti. Primo, osservare le prescrizioni dell'autorità. Dobbiamo obbedire. Ci sono delle regole e le rispettiamo. Ci si può spostare per motivi determinati, spostiamo. Smettetela di fare polemiche inutili. C'è il Presidente Conte? Certo, non l'ha voluta lui questa disgrazia nazionale. Seguiamo le disposizioni del Presidente. Punto. livello d'autorità che in questa fase, e mi permetto questo giudizio, si sta dimostrando di grande utilità e di grande livello. Parlo dell'autorità media, i governatori delle regioni. Guardateci, è poco da dire. Dove c'è una sola testa che comanda. Infatti non parliamo di giunta regionale, di assessori regionali. Il Presidente della regione, che sia Zagna, che sia Fontana, che sia lo stesso Emiliano che sta ben operando. Poteri concentrati in un'unica persona e, nei limiti del possibile, le cose funzionano. In Lombardia stanno dando ordini appropriati, io credo, così come in Veneto e anche nella regione Puglia. Ci stiamo preparando. Dicono che arriveranno giorni peggiori. Speriamo di no, raccomandiamoci alla madonnina nostra di ripalta. Però, devo dire, il livello regionale sta rispondendo. La situazione a Cerignola. La situazione a Cerignola è precipitata nel grado di preoccupazione quando, giustamente, è stata acquisita la notizia di un contagio fra il personale della Polizia Locale dei Vigili Urbani. È chiaro che sono persone più esposte di altri e, purtroppo, c'è da registrare questo caso. Io sto registrando come trasmissione il giovedì sera, come faccio sempre. Spero che fino a sabato, che andrà in onda, non ci sia un peggioramento. Che dobbiamo dire? Mi sembra ovvio che l'attività dei Vigili Urbani della Polizia Locale sia stata sospesa. Anche qui, fare le polemiche, perché proprio uno sta in casa, giustamente, non c'è niente da fare, deve polemizzare su tutto e su tutti, non serve a niente. Il provvedimento di quarantena è obbligatorio per tutti coloro che abbiano avuto contatto con il nostro Vigili Urbani. Il provvedimento di quarantena è obbligatorio per le famiglie di coloro che hanno avuto contatto. Il tempo necessario per fare i tamponi, per fare gli accertamenti, io non sono abilitato a darvi ulteriori informazioni, mi devo limitare a quelle strettamente pubbliche, anche se io qualche cosa in più la so, ma non sono autorizzato a diffonderla. Speriamo che questi accertamenti siano fatti nella maniera più efficace, rapida possibile e che diano un risponso positivo e favorevole, perché i ragazzi e le ragazze, i uomini e le donne della polizia locale non debbano ulteriormente pagare un tributo in termini di salute, in termini di restrizioni familiari, ad aver svolto il loro lavoro. Anzi, apprezziamo per una volta, lo dico spesso, io lo dicevo pure prima, parlare è facile, bisogna calarsi nella realtà, immaginare che significa avere 30 vigili urbani, 36 vigili urbani per un paese di 60 mila abitanti, allora forse uno si fa un'idea della difficoltà di questa professione, di questo lavoro. Seguiamo le disposizioni delle autorità competenti. Dice, ma se tu fossi stato operativo, in carica, è inutile che mi sto a dilungare su quello che avrei fatto. Se in questi tempi, penso che tutti quanti abbiamo il tempo necessario per farlo, seguite i social, seguite i miei social, vedete che io condivido le iniziative dei sindaci di tutti i comuni. Il sindaco di Bari, che opera proprio per strada, il sindaco di Lucera o il sindaco di Sansevero, che sono molto attivi sui social, invitano, ordinano di stare a casa, danno queste disposizioni. Ho visto nei giorni scorsi il sindaco di Trani e il sindaco di Apricina. Certo, quello di Trani l'hanno mandato sul Rai 3, quello di Apricina non se l'è filato nessuno, ma tutti e due i colleghi Bottaro di Trani e Potenza di Apricina stanno ai posti di blocco, all'ingresso dei paesi, per verifichere, controllare. Sono stati i primi a mandare in giro le auto con gli inviti alla popolazione, a rispettare le regole, hanno disposto la disinfestazione. A Sansevero c'è stata la disinfestazione addirittura gratuita, perché coordinati dal Comune, gli agricoltori hanno messo a disposizione i loro strumenti agricoli per, sotto il coordinamento del Comune, andare a disinfestare le strade. Subito è uscito Pierino, la mamma di Pierino sta incinta, dal primo gennaio al 31 dicembre, ci stanno tanti Pierini, tutti capisci, non serve così, serve colà. Male non va? Facciamolo, non polemizzate sempre, è una cosa veramente in questo momento insopportabile, qualunque cosa si trova una ragione per poter dire no, ma non va bene, ma io se forse sì, un po' di pazienza ho sentito pure la gente che si lamenta perché qualcuno esce al balcone e suona i piatti e mette le canzoni, ma è possibile che il livello della tolleranza sia sceso così in basso, cioè tutto quello che non piace a me non è giusto, non è praticabile, tutto quello che io non sopporto io non esco al balcone a cantare, ma è questo, perché lo volete impedire agli altri? Sfruttiamo questo periodo, sfruttiamo cercando di sopperire così, ispirandoci ad altre autorità a quello che manca Cerignola, perché ovviamente quando io ho dovuto ispirarmi e ribadire dei modelli, mi sono dovuto rivolgere a tutti i modelli dei paesi circostanti, i sindaci dei paesi circostanti, anche quelli più vicini, Stornarelli, non a Cerignola ovviamente, non a Cerignola perché a Cerignola da questo punto di vista non abbiamo mezza iniziativa, veramente è terribile questa situazione, capisco la sensazione, il sentimento così di abbandono da parte dei cittadini, perché sembra niente, ma sapete l'aggiornamento quotidiano, il sindaco che ti dice oggi non si sono registrati i casi, oppure ti fa un po' il monitoraggio, guardate che pomeriggio sono contento, poche macchine in giro, quasi nessuno, e quelli che stavano in giro, da quello che si è capito, avevano una buona ragione, magari lavorativa o altro, stamattina invece troppo movimento, ma il sindaco serve a fare queste cose, serve in mezzo alla strada, serve a farsi vedere, noi invece teniamo questi tre improponibili soggetti che in questa settimana si sono segnalati per le loro stramberie, quando si tratta di fare polemica, ma io martedì sera ero a casa, mi arriva un messaggio, e penso che qualcuno è uscito pazzo, perché mi dice il messaggio, domani mercato alimentare aperto, e c'era poi, non so se voi ci avete presente, quelle, non so come si chiama tecnicamente, mi mandavano una immagine, io l'ho ingrandito, e poi ho capito di che si trattava, cioè era l'ordinanza con cui si sono messi in tre, tre scienziati, si sono messe tutte e tre insieme e hanno deciso che il mercoledì, giorno del mercato, si potevano aprire le bancarelle al mercato, diciamo presuntivamente settimanale, le bancarelle alimentari, ma questi sono matti, hanno chiuso tre quarti della città, non per il coronavirus prima, per non prendersi una responsabilità, poi evidentemente, qualche perlingogno è andata a sollecitare, perché non credo che se loro sono sognati la notte, tutte e tre, hanno messo insieme tutte e tre i loro cervelli, per ordinare che i mercati fossero aperti, per gli alimentari, pensate che anche il mercato ieri, venerdì, doveva essere ipoteticamente aperto, perché le bancarelle, scienziati, tre scienziati, le bancarelle devono stare, una lontana dall'altra, e le persone devono stare a un metro di distanza, cioè stiamo cercando di evitare gli assembramenti, non io, chi ci comanda, e loro aprono il mercato, e scusate la domanda, chi doveva disciplinare il mercato, la distanza delle bancarelle, le persone, i vigili urbani, che poi il giorno dopo si è scoperto, che è un vigile urbano, è contagiato, sta ricoverato, e preghiamo la Madonna che stia presto bene. Allora siete matti, ditelo che siete matti. Com'è possibile? Pensare una cosa di questo genere, ovviamente è successo l'ira di Dio, di proteste, l'ira di Dio, di recriminazioni. Io ero abbastanza tranquillo, perché ormai li conosco, i miei concittadini, sono molto più intelligenti di quello che pensa Postignone, di quello che pensano i tre porcellini, che leccano il sedere a Postignone, e con bagni, non si sono presentati, ovviamente, non si sono presentati i commercianti, non si sono presentati i cittadini, a maggior ragione, non ci sarebbe andato nessuno a questo mercato. e l'osservazione che io ho fatto è questa. Chiaramente i cittadini sono molto più intelligenti, prudenti, rispettosi delle regole che non i nostri tre commissari, che sono francamente improponibili. E non è solo questa quella che hanno combinato, ne hanno combinato una più di Bertolto, però il resto, ve lo vorrei dire, domani, nella prossima trasmissione. Ucchiavevole, state ben buoni. Ma il cielo è sempre più blu.